Ciao a tutti, oggi vedo i miei tre errori da evitare a Sharm el Shake. 1. Preoccuparsi troppo per l'acqua. È vero che è assolutamente vietato bere acqua dal rubinetto, perché non potabile. Ma questo non vale per quanto riguarda i dispenser, almeno dove sono stata io. Comunque, molte persone usano l'acqua in bottiglia per lavarsi i denti. 2. Fare acquisti appena arrivati. Appena giunti all'aeroporto, non fatevi prendere dalla fretta, perché ancora non conoscete il posto e i prezzi. Per questo motivo vi consiglio di aspettare. Io non l'ho fatto ed ho speso per due papiri molto simili cifre diverse. 3. Dimenticare le monete per le mance. Paese che vai, usanze che trovi. E in Egitto lasciare la mancia è una di queste. E lo si fa molto frequentemente. Perciò, a questo proposito, vi consiglio di prepararvi un bel po' di monete per le escursioni o fuori dal resort. Inoltre, non è necessario effettuare il cambio valute, perché sono accettate allo stesso modo euro e l'idea egiziana. Per oggi è tutto e se hai domande, non esitare a lasciare un commento. Ciao! Ciao!